ritmo via col vento perché la ritmo è filante aerodinamica silenziosa e consuma meno ritmo la seconda casa perché solo un'auto di cilindrata molto superiore ha un'abitabilità come questa ritmo incollata al terreno perché la ritmo assicura sempre la tenuta di strada migliore anche nelle condizioni peggiori fiat ritmo l'evoluzione della specie